Sì, India Unifon 2, Charlie Ghost November. Sì, sì, ti ho risposto, ti ho detto che io tengo il condensatore acceso col termodificatore stogiorno, perché qua c'è un omido pazzesco. A te. Sì, Cg, India Unifon 2, Charlie Ghost November, che riprende. No, io invece uso un ponte che è sopra il Como. Como Milano, 20 km, dai, 25. A te. Sì, India Unifon 2, Charlie Ghost November. No, sto andando con un 991 con un microfono da tavolo, un MD100. Sì, niente, il ponte mi arriva con il massimo del segnale sia ricevuto che trasmesso. che ha detto che non rilasciano più gli aggiornamenti del 991. Io, fino a poco fa, ho parlato con la Jesu, ce l'ho anch'io il 991 in America, ce l'ho 400, anzi, ce l'ho due 400, uno su LinkedIn, che ce l'ho collegato in LinkedIn, 5 FM, uno lo uso in macchina, poi ce l'ho vettigente e appena due 100. e ho parlato con la Jesu, la Jesu l'aggiornamento gli fa, paghi, non è che lo paghi, deve pagarlo per fare l'aggiornamento. Se qualche negoziante è ancora attivo che fa gli aggiornamenti, lei paghi poco.